Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi voglio presentare questo passito di pantelleria NES Pellegrino 1880 questo passito è costato parecchio è 14,5% di volume ed è 50 centilitri allora c'è scritto, predemonizzazione controllato 2020 allora perciò deve essere buonissimo quando lo aprirò, dopo le feste, farò un video dove vi dirò com'è questo passito ma sarà buonissimo già ve lo assicuro, meglio degli altri che ho recensito finora perché è costato veramente tanto e niente ragazzi questo è tutto per questo video iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video io parlo di tantissime altre cose armi, videogiochi, soft air poi accessori, orologi, profumi, di tutto andate a vedere, sicuramente troverete uno che vi piacerà e ci sentiamo al prossimo video ciao ciao